Buongiorno da Meteo.it. L'alta pressione in questa giornata proteggerà gran parte del nostro territorio ma questo vortice di bassa pressione posizionato sullo Ionio porterà un po' di instabilità al sud. Infatti se andiamo a osservare in dettaglio la previsione per le prossime ore avremo prevalenza di tempo soleggiato al centro nord e in Sardegna. Una maggiore nuvolosità interesserà le regioni meridionali con localmente rischio di qualche debole pioggia o isolato temporale. Nella giornata di domani l'alta pressione si rinforzerà ulteriormente garantendo tempo stabile e soleggiato. Infatti nella giornata di domani avremo tanto sole da nord a sud con solo un po' di nuvolosità in acqua in Basilicata e in Sicilia. Le temperature massime saranno in rialzo al nord e sul versante tirrenico. Avremo valori compresi tra 15 e 21 gradi da nord a sud. Per il tempo si rinforzi la regla di domani avremo tanto sole che si rinforzano in quanto sole si rinforzano in sicilia. La regla di domani avremo tanto sole. Grazie a tutti.